Da poche ore è stata decisa la lotta al cinipide, il parassita che sta distruggendo i castagni marcianesi e già spunta una nuova emergenza a Portoferraio, quella del punteruolo rosso, rincoforus ferrugineus, che colpisce le palme. Si tratta di un coleottero originario dell'Asia sudorientale che da adulto misura una lunghezza dai 35 ai 50 mm. L'insetto si presenta con una livrea rossa a macchioline nere ed ha un lungo rostro ricurvo. È un parassita micidiale per le palme di cui provoca l'inaridimento delle foglie. Il punteruolo attacca la palma, prima secca le foglie e poi fa morire la pianta, ci spiega l'architetto Mauro Parigi, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Portoferraio, che può crollare anche su se stessa. Quindi, in alcuni casi, comporta un problema di sicurezza. Il Corpo Forestale dello Stato ha scoperto i primi focolai circa due mesi fa ed ora sta portando avanti una serie di verifiche per capire come questo omicidiale parassita sia arrivato sull'isola. È lotta contro il tempo per individuare le piante malate, continua Parigi, ed eliminare larve ed insetti per impedire che si propaghino a tutte le altre palme. Il patrimonio che abbiamo in questo senso è importante, ce ne sono alcune tra le più grandi che sono storiche, come ad esempio quelle in Piazza Marinai d'Italia o in Via Vittorio Emanuele. Oggi il personale dell'ufficio tecnico è già entrato in azione agli Altesi per eliminare una palma già attaccata pesantemente dal punteruolo, quindi ormai condannata. Il 7 novembre, insieme al Corpo Forestale regionale, l'ufficio tecnico portoferraiese ha organizzato un seminario informativo presso la saletta della Gran Guardia alle ore 10. Il rischio, spiega il dirigente comunale, è che vengano sterminate tutte le nostre palme. Bisogna quindi decidere forme di profilassi e lotte chimiche o anche biologiche contro il punteruolo, agendo prima di tutto sui focolai già individuati. È bene informare i vivaisti e chi gestisce giardini e piante. Grazie a tutti.